Senti, perché lo chiamano banale, il barista? Perché dice banalità, mio padre l'ha chiamato così. Karim, vieni. Devo parlarti. Non hai fatto un dolce? No, tu mi avevi detto... Sì, ma adesso... Ma allora che mi vuoi dire? Non mi hanno preso. Eh? Non mi hanno preso, era una bugia. Oh, porca miseria. Pazzo furioso, ecco quello che sei. Ma perché l'hai fatto? Sei masochista? Perché ho visto la faccia di mio padre e non ho voluto deluderlo. Oi, 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 oi. Prova a pensare ai casini che avrai quando dirai la verità. Non la saprà mai. Va a cercare un whisky, ti prego. Oi, 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 oi. No... 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 Grazie.